Credo che sia importante tranquillizzare anche la presidente di ConfCommercio, Barbara Marcolini, perché noi crediamo fortemente nella promozione e Fano da qualche anno è partita in un processo di promozione importante già con la creazione del City Brand, creando anche una sorta di tavolo del turismo, nel quale abbiamo già fatto un primo incontro con tutte le associazioni di categoria, tra cui ConfCommercio. Questo tavolo sarà ripetuto adesso anche all'inizio di settembre, dove decideremo delle strategie di promozione della città, anche se ovviamente come amministrazione ce l'abbiamo chiare, ma crediamo che fare sinergia con le associazioni di categoria che hanno contatto direttamente con gli operatori sia fondamentale. Ci sarà anche, come chiedevano loro, un po' la presenza in alcuni tavoli importanti, anche a livello nazionale, di mostre? Assolutamente sì, produrremo degli opuscoli adatti a presentare la città nel miglior modo, degli opuscoli, dei video, in modo che possiamo presenziare a fiere, possiamo presenziare ad alcuni format anche innovativi che si stanno creando proprio in questo momento, per fare in modo che Fano possa essere venduta con tutte le sue caratteristiche e con un legame forte nel suo territorio in tutta Italia, ma non solo, a livello internazionale e nel mondo. Per la mostra di Leonardo e Vitruvio vi siete affidati a un ente a livello regionale? Sì, anche la mostra sta ottenendo degli ottimi risultati, al contrario magari di come molti dicono, ci siamo affidati ad un ente che è il Sistema Museo, che ha sempre curato questo tipo di attività e lo sa fare a livello professionale, lo sta facendo a livello professionale con una serie di promozioni che sono arrivati anche nelle cartelle stampa dei più importanti quotidiani online o quotidiani comunque a carattere nazionale.